Sicuramente al di fuori di quest'aula portano in giro una forma di cattolicesimo che però forse non considera il fatto che Gesù bambino stesso ha goduto di un padre che non era suo padre naturale e non credo che questo sia mai stato concepito dal dettato del Vangelo come un elemento di diminuzione della possibilità di questo bambino che per 30 anni è cresciuto con l'affetto di un padre consapevole di non essere il padre naturale.